Il Freelance Camp ha degli sponsor molto belli a livello nazionale e siamo sempre molto contenti quando è possibile averli qui con noi, quindi facciamo venire Silvia di Banca Etica. Silvia di Banca Etica 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 parla di sostenibilità, lavora per delle società che si occupano di economia circolare e quindi racconta la sostenibilità fatta dagli altri, quindi fatta da queste società, le start-up, le PMI, le B Corp che appunto ruotano intorno a tutto questo mondo. E allora dico, oltre a scrivere di tutto questo, conoscendo questo mondo, potete scegliere banca etica come la vostra banca, la banca dei vostri risparmi, proprio perché diventate a quel punto consapevoli a 360 gradi, quindi non solo mi occupo di sostenibilità, ma so che cosa significa, so che senso dare a questo lavoro e sono ancora più coerente sapendo dove vanno i miei risparmi. Quindi questo è quello che appunto ho pensato di raccontarvi oggi. E appunto a livello di, come clienti, come libri professionisti, questi sono i vantaggi di banca etica, però banca etica, oltre ad essere una banca, è chiaramente di più, fa tantissimo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, ha partecipato alla molibilitazione per il clima e lo fa ogni anno insieme ai Fridays for Future, quindi in un certo senso è collegata molto spesso al lavoro dei freelance. Io, tra l'altro, occupandomi di, non lavorando in filiale, ma occupandomi di crowdfunding e raccolte fondi, vengo anche in contatto con i freelance, con i copywriter, con consulenti che si occupano di, appunto, raccontare i progetti delle aziende che fanno raccolte fondi, per cui nel caso appunto ci fosse qualcuno che ha curiosità di conoscere meglio questo mondo, posso anche raccontarvi appunto qualcosa su questo ambito, su questo settore. Se ci sono domande, altrimenti io avrei concluso. Grazie, applausi!